quando nasciamo noi non abbiamo un io per cui il bambino che viene al mondo di qualche giorno di qualche mese fino più o meno ai due anni il bambino non avendo un io non sa cos'è l'altro non c'ha il concetto di altro il bambino è come se fosse immerso in una dimensione chiamiamola psichica in un flusso in un magma indifferenziato dove in realtà non esiste né lui né gli altri il suo corpo esiste a vederlo da fuori ma non c'è un io che dica io sono questo e quindi siccome non c'è quell'io non c'è neanche tu sei quello non c'è l'io quindi non c'è il tu quindi non c'è il noi non c'è il voi non ci sono i soggetti quindi il bambino fino a una certa età è immerso in quello che il vangelo chiama il regno però un regno che poiché non c'è nessuno che lo guardi che lo servi è un regno inconsapevole inconscio cioè il bambino è nel regno ma non lo sa ed è per questo che a un certo punto si scinde lato di scissione appunto la goccia che esce dall'oceano e può dire io sono una goccia che tutti gli altri sono un oceano di altri quel momento è un momento tecnicamente diabolico da diabolos come già abbiamo detto ovvero diaballe separazione ma in realtà è solo modo con cui il tutto si può osservare quindi se l'oceano volesse osservarsi sarebbe obbligato a scendersi cioè a inviare una goccia di se stesso fuori dall'oceano e poter dire ecco chi sono quindi l'oceano infinito per per vedersi dovrebbe farsi finito diventare una piccola goccia finita e a quel punto osservarsi in tutta la sua infinitezza quindi se questo tutto lo vogliamo chiamare dio il dio necessità di scindersi quindi il dio ha necessità di creare il diabolos la dualità per poter creare un soggetto che lo guardi il diabolos è la necessità che ha il dio di scindersi quindi di vedersi a questo punto l'essere umano diventa quella goccia uscita dal divino che però permette di vederlo quindi potremmo dire che l'essere umano sia una sorta di occhio che il dio si toglie per poi guardarsi questa è in sapienza la nascita dell'io in chiave poetica in chiave simbolica è come un dio che ha tutto che è tutto e quindi a certo punto decide siccome non può vedersi decide di estrapolarsi un occhio quindi immagine un po' cruenta ma è un'immagine immagine di un dio o una persona che per vedersi e non altre possibilità non altre camere non specchi non ha niente non ha ombre non ha niente il suo modo per vedersi serve quello di prendersi un occhio e portarlo fuori senza perdere la connessione del nervo ottico e a certo punto girarlo verso di sé da qui l'idea che l'essere umano sia un parto doloroso cioè è doloroso il processo con cui il dio si fa carne e quindi il dio diventa occhio di se stesso la maggior parte degli individui però cosa fa ovviamente appena esce dal divino appena quell'occhio che l'io umano esce dal divino invece che voltarsi e guardare la casa da cui proviene quindi guardare il padre direbbe un cristiano è voltato piegato dal dolore il che vuol dire che quando l'io nasce invece che voltarsi e guardare il dio e questa sarebbe la conversione è perso nelle ferite che poi chiama e egoiche e quindi l'abbandono atavico ontologico la solitudine ontologica di sentirsi un occhio che è uscito dal corpo del divino quindi l'azione è quella di ripulirsi da tutte le ferite voltarsi e guardare il divino finché non avviene tutto quel divino che non riesco a vedere lo proietto sugli altri a questo punto invece che vedere in ogni sguardo in ogni oggetto in ogni paesaggio in ogni individuo l'incarnazione di quel dio da cui io sono uscito io vedo attraverso il filtro delle ferite vedo colui che mi separa invece che vedere il fratello vedo il nemico per un discorso di negativo vedo la foto al negativo per cui invece che vedere il mondo tutta la realtà esistente come il luogo di provenienza ea cui sentirmi in connessione poiché non mi converto sono nella ferita allora male dico il divino da cui sono uscito e questa rabbia questa queste ferite le proietto sugli altri quindi chi è l'altro l'altro inteso come un individuo come una persona l'altro sarebbe l'occasione ognuno di noi ognuno degli altri è carne del teos corpo divino quindi in realtà ogni conflitto con l'altro è un conflitto con dio e perché io intendo non un dio religioso canonizzato da teologia quel tutto da cui arriviamo con la coscienza quel logos con l'intelligenza da cui noi proveniamo l'io è depositario di una dimensione finita e infinita e quindi tutte volte che io guardo l'altro sono davanti o a un infinito o a un finito se davanti a un infinito sto proiettando tutto il mio infinito non contattato quindi io lo guardo dal mio finito se ho davanti un finito lo guardo dal mio infinito questo chiave poi più grafica vuol dire che l'altro diventa o un limite o un muro o una struttura che mi soffoca oppure l'altro diventa dispersione follia mi perdo quindi l'altro è sempre due cose e o è lo specchio delle nostre strutture finite schematiche davanti al cuore noi ci sentiamo soffocati quindi siamo come una divinità davanti a un ego finito qui facciamo esperienza del nostro dio interno che ha davanti il se stesso finito pure io incarno davanti all'altro il mio finito le mie strutture e davanti ho il divino quindi ho quell'infinito con cui sono arrabbiato con cui sono deluso con cui chi mi ha abbandonato quindi appena nasce l'io nasce l'altro e questo è un problema però è un'opportunità perché se io mi metto nella posizione convertita nella quale io guardo ciò che altro da me come una perfezione intelligente io sono quell'occhio che riesce a captare e intercettare il divino se invece sono ancora nelle mie ferite ovviamente dovrò fare tutta una serie di processi per voltarmi ripulirmi e poi guardare quindi fino a quando non viene fatta questa pulizia l'io soffre di cui poi psicosi mentali o sintomi del corpo sono i sintomi perché poi è chiaro che se io sono teso o paure mi sento isolato dovrò assumere delle posizioni del corpo che rispecchiano queste paure a quel punto non sono più le paure necessarie all'esistenza del corpo e cioè vedo una tigre il corpo inizia tutta una serie di processi per o aggredire o fuggire sani processi ma proietto queste strategie alla psiche per cui l'altro diventa la tigre la realtà diventa nemica e e non la tigre o un sasso che mi cade di cui io devo avere paura devo avere tutte le strategie per difendermi ma questa situazione diventa poi proiettata sulla realtà e quindi su qualsiasi cosa quindi l'altro diventa lo specchio o del divino o delle ferite per cui il rapporto col mondo è il rapporto che ho con il dio ma se quel dio in modo più laico è quella dimensione inconscia tutto il mio infinito non visto il mio rapporto con gli altri è il mio rapporto con l'infinito e quindi sia nell'inconscio o tutte le ferite da caduta dal paradiso proietterò sul mondo queste sofferenze e che possono diventare o strutture difensive cui mi difendo o attacco e qui si passa dall'essere alla vera nasce la vera per cui se prima il bambino di due mesi era tutte le cose se quella goccia era nell'oceano quindi era l'oceano bambino era era tutto ora col bambino quando esce da lì o non è più niente è soltanto una goccia piccolissima finita davanti a un mare infinito e quindi solo modo che al bambino ovvero leggo che ha scoperto l'io di entrare in connessione con il tutto è la vera prima il bambino era il mare era la spiaggia ero la città era il divano era la mamma papà era tutto non c'era la frattura psichica faceva parte di un corpo in cui c'erano le differenze ma non c'era la separazione ora invece è separato per cui il solo modo che ha per tornare in contatto e appropriarsi delle cose che prima era e qui arriva l'avere e più l'io cresce e più diventerà possessivo cioè vorrà avere perché più cose o pensa erroneamente l'io e più io sono perché scambia l'essere con l'avere quindi anche l'altro diventa un oggetto da possedere o da rifiutare da allontanare per quella massa espressione dell'ego ovviamente è qualcuno che vuole possedere tutto vuole comandare tutto vuole possedere uomini cose oggetti ricchezze denaro è talmente assetato di essere ma non ha aperta la porta dell'essere che rimane la porta aperta dell'avere e lì deve compensare tutto a questo punto l'altro con la maiuscola l'altro ciò che altro diventa quell'essere che io sono da cui mi hanno separato che lo devo riprendere lo devo riprendere deve tornare a essere mio e qui c'è errore deve tornare a essere mio o devo tornare a essere io quel io mio e cioè essere avere è proprio il confine tra l'essere santo e l'essere profano e l'evangelo questa cosa emerge quando gesù dice alza il legno e mi troverai sposta la pietra mi troverai cioè ovunque ci sono se mi guardi poteva dire apri la porta della cucina e lì mi troverai poteva dire sposta le scarpe e lì mi trovi e qui per gesù intendiamo quel modo di vedere gesù nella psicologia è visto come quell'occhio uscito dal divino che però vede il padre quindi non è sporcato dalle ferite per questo lui può dire io io vengo a ripulirvi dei peccati io vengo a ripulirvi l'occhio dalle dal diabolo che vi rende malati vi ammala vi rende storpi vi rende ciechi vi rende sordi vi rende muti vi rende malati essere figlio del padre vuol dire essere quel frammento divino incarnato in un corpo che però invece che passare la vita a cercare di non sentire le ferite le trascende si gira e vede però al lavoro forse non dato a tutti perché poi è una grazia come direbbero i cristiani non c'è le istruzioni per l'uso però le sapienze si occupano di aiutare gli esseri umani a svolgere questo processo al meglio magari mentre l'io è insanguinato che soffre spiegargli che c'è una ragione e quindi visto che il tema è l'altro portare l'io a capire che quegli altri con cui ha a che fare sono un'occasione e più c'è conflitto con gli altri più c'è conflitto con quel se stesso celato in questo senso il gesù simbolico può porgere l'altra guancia ovviamente il comandamento che da è uno cioè ama il prossimo tuo che è l'altro come se fossi te stesso perché appunto il tuo te stesso è buttato fuori della goccia sarebbe chiarissimo alla goccia gli direbbe ama il mare tuo come ami te stesso però la goccia ha dimenticato di essere mare cioè la goccia si vede in quanto forma ma non si vede in quanto acqua l'acqua sarebbe l'anima la forma sarebbe la mente quindi l'individuo non riconosce che dentro di sé alla stessa acqua che hai tu vedo le forme per cui io sono alessandro tu sei x noi due siamo due cose diverse si l'io si limita alle forme non riconosce che dentro quel quella forma c'è un contenuto che vuole al mio e non sono i pensieri le credenze non è questo e siamo diversissimi tu la pensi così la persona ma questi sono tutti gli strati dell'io culturali ereditari sociali ma in fondo in fondo in fondo c'è un c'è un nucleo in cui noi abbiamo la stessa sostanza del padre ma finché non giungo a quella sostanza in me io non posso incontrarla in te quindi l'altro non è la sostanza del padre in cui io posso riconoscermi anzi io in lui vedo tutti gli strati chiamati egoici che mi risuonano in me i più tipici sono quelli delle relazioni affettive amorose quindi a partire dai genitori a partire dai fratelli a partire dai compagni i figli attraverso queste relazioni io ho modo di capire una serie di informazioni che mi riguardano e non si parla di quella sostanza del padre che è uguale in tutti ma di quegli strati che si sommano per cui ad esempio se io ho facciamolo al femminile se io un marito un padre e un figlio io ho tre maschili che sono in ordine temporale perché il padre viene prima il mio compagno sono donna è attuale e il figlio è il futuro io in questa in questa triade sto guardando tre maschili ovvero tre strutture che riguardano me di come io sto processando l'infinito per cui poiché io sono quell'occhio che ancora ha avvolto nel dolore che non riesce a vedere l'infinito quali sono le strategie con cui io mi sto risanando dalla ferita è il padre mi racconta la strategia ereditaria da dove arrivo il marito mi racconta la strategia attuale il figlio mi racconta quella futura che dove sto andando se io invece che avere un padre avere un marito e avere un figlio cosa che li ho oltre ad avere un marito un padre un figlio se io riesco a esserli e accorgermi che li sono che li sono io ho un'apertura di coscienza perché mi accorgo da dove arrivo dove sono e dove vado e questa è la strategia psico analogica che attraverso il mondo esterno attraverso l'altro punto io conosco me stesso ovvero tutti gli strati egoici in questa condizione le persone che ho attorno mi raccontano le mie strategie spesso a specchio ovvero vedo in lui una difesa che sto usando io e non me ne accorgo e spesso compensativo e cioè vedo in lui qualcosa che dovrei potrei sviluppare per cui genere quando nell'altro io vedo qualcosa di positivo e provo ammirazione io sto guardando nell'altro una strategia che ho latente e che vorrei sviluppare quando invece incontro un altro e vedo qualcosa che mi respinge per cui ho repulsione mi racconta qualcosa che mi appartiene e che sto iniziando a non volerla più in negativo quindi l'altro è questa continua parete su cui noi possiamo lanciare una palla che è nostra e ci viene riputata indietro perché questa palla è mia ma non so non la vedo non so come è fatta qui la devo lanciare contro il muro perché non riesco a fare questo non riesco da sponda l'altro è la sponda e finché sono questa dinamica diciamo egoica l'altro è una sponda duale che mi fa vedere la frattura tra me e me e più invece io divento integro più l'altro smette di essere una sponda a quel punto l'altro diventa un'entità su cui io non non ho più gioco proiettivo del possedere dell'attaccamento per cui diventa come una mia mano che mia la mano si è mia ma non è che è mia è naturale siamo connessi quello che io voglio e lo fa è quello che fai lo voglio l'altro diventa un qualcuno cui ho una relazione fluida e lì si può sviluppare quello che chiamiamo comunemente amore quindi amare l'altro vorrebbe dire intanto denudarsi di tutte le ferite se non l'altro non posso vedere però non vedere l'altro non è un male è necessario e non è che sfrutto l'altro per conoscermi è necessario ci sei dentro che tu ne sia consapevole o meno non è ne approfitto così mi conosco oppure cerco di non farlo è fondamentale perché l'altro è il dio quindi nella conoscenza o l'altro divento io oppure l'altro diventa il nemico perché essendo io duale non posso fare a meno di conoscermi in metà alla volta e cioè nel momento in cui incontro l'altro è come se stipularsi un patto dicendogli ti delego la mia metà che non vedo più direbbe che nell'incontro con l'altro io affido all'altro la mia zona d'ombra gliela affido e dico fammela vedere quindi sono sempre metà di me stesso davanti al mondo ma quell'altra metà in l'ombra è sia il mio paradiso sia il mio inferno quindi è sia il mio infinito a cui io tendo in cui vorrei sciogliermi quel mare appunto a cui vorrei tornare ma è anche il mio inferno e cioè è la paura di perdermi di disintegrarmi di perdere la mia forma e l'altro a questo punto diventa lo specchio delle mie ferite da cui vorrei fuggire da cui vorrei difendermi o che vorrei attaccare per annullarle e quindi ero setanatos laddove vedo l'amato a cui congiungermi è sia una morte perché vorrebbe dire perdere la mia forma e sia ucciderlo perché mi è nemico qui o video in quella frase bellissima accoglie questo enorme conflitto che nasce quando dice né con te né senza di te né con te perché a questo punto sei lo specchio dei miei conflitti delle mie ferite ma neanche senza di te perché sennò se non ci sei tu io perdo il rappresentante del mio infinito a cui io tendo chiaramente l'innamoramento è il momento in cui io vedo l'altro come specchio della mia luce e quindi vedo la sua luce poi la relazione diventa quel momento in cui si cade sempre è un archetipo è la caduta dal paradiso per poi ritornare a quel paradiso quindi tornerete essere bambini cioè tornerete a quell'origine ma dopo aver fatto un passaggio altrimenti siete in quell'origine in quell'infinito ma non potete vederlo e questa con l'altro è una dinamica che è costante chiaramente molto di più con l'amato e spesso emerge molto la zona d'ombra al negativo quindi lo specchio delle ferite ma non è negativo in realtà questa immersione ora è un gesto amoroso il fatto di affidare all'altro la zona d'ombra non lo fai con tutti lo fai con chi stipuli un patto che spesso chiamano matrimonio che appunto per questo che il matrimonio spesso è il luogo in cui si rivelano i più grandi le più grandi violenze perché se bassa la coscienza di uno a specchio lo è anche l'altro e quindi i due si vedono quando si vedono nella zona d'ombra cioè sempre non ho davanti un dio ho davanti un mostro cioè sarebbe quel divino che non mi ha partorito e poi mi ha detto volta che guardami mi ha dato un calcio nel sedere sono pieno sporco di sangue l'occhio di prima sono lì in ginocchio e lo maledico così il rapporto con l'amato e l'amata è il rapporto con il dio se volessimo capire che rapporto ho con dio basterebbe guardare il rapporto che ho con l'amato l'amata da qui poi nascono tutte le proiezioni che sono proiezioni sono delle annunciazioni quando le persone incominciano ad avere altre immagini stanno con giovanni ma incominciano a sognare richardire non è una proiezione ma in quel caso il divo cinematografico che è un divo quindi un dio mi racconta della mia vera identità che non è richardino lui lo incarna in quanto è depositario di alcune caratteristiche simboliche ma non c'entra nel marito né richardino sono tua tutti immagini due quindi alla domanda è giusto lasciare mio marito prendere con richardino la risposta è no sì come non si è no nella verità biografica anche perché tu non conosci nel tuo marito né richardino della verità di una quindi l'attuazione è totalmente illusoria e contemporaneamente è giusto perché vorrebbe dire lasciare un modo di vedere per sposarmi a un altro modo di vedere quindi se cadiamo nel tranello di realizzare questa annunciazione simbolica nel mondo delle forme mi ritrovo ad esempio a divorziare da mio marito e poi andare a hollywood a cercare ricerchire che se va bene non lo trovo se va male lo trovo e quindi mi accorgo che ricerchire non è quello che immaginavo e quindi mi accorgo che il simbolo che era solo un simbolo però anche qua una forma di psicologia butta via la proiezione come se fosse appunto un ideale mentre in psicologia la proiezione la accogliamo come un'immagine da realizzare cioè se tu hai avuto l'immagine di sposarti con ricerchire ti devi sposare con ricerchire ma in chiave interiore quindi a questo punto bisogna capire cosa vuol dire incontrare un ricerchire interno che è sempre legato a un modo di porsi nel mondo è una struttura del maschile che può essere legata al al modo di pensare al modo di parlare non è una persona questa mi avviso è l'intuizione psicoanalogica di trasformare il mondo concreto e ideale in uno specchio che mi indica la strada quindi l'altro è questo è questo mondo che sono io però dire l'altro sono io un po poco ci serve la risposta io chi dipende chi incontro sono tutte aree della psiche mentre molto interessante è quando le persone parlano degli altri senso generale li stampando dell'on inconscio in modo molto chiaro non parlo di parti precise padre figlio madre quando una persona dice tutte le persone sono stupide belli ignoranti sono tutti matti sono tutti impazziti sono tutti buoni quel tutti sta raccontando dell'oceano che ha davanti cioè del suo inconscio quindi le generazioni sono interessantissime e siccome la tua coscienza non è statica ma va su e va giù il lunedì dici sono tutti matti il giovedì dici sono tutti belli quindi anche lì stai guardando il tuo inconscio o il tuo oceano divino con un io che ho più di bassa coscienza più di alta coscienza in una frase semplicistica potremmo dire dimmi come vedi il mondo e ti dirò chi sei potrebbe essere lo slogan infatti la psicoanalogia si basa su questo si basa su due strumenti fondamentali uno è appunto quel questo attraverso la domanda analogica e le tue risposte si evince per analogia qual è il tuo rapporto con l'infinito e poi c'è tutto il lavoro invece chiamato esoterico cioè quello di cui non si può parlare qua e non perché è vietato non si può ma perché prevede una pratica che quella che io faccio con la musica dove attraverso la musica entriamo in questa dimensione inconscia e preleviamo l'immagine simbolica che tu hai legato a l'altro per cui perché io gli africani li vedo in certo modo è perché dentro porti un'immagine e quell'immagine inconscia il mio dire me la racconta però non ho tutti i dati cioè fuori ho dato emotivo non sopporto mio padre mia madre non so perché non lo sopporto sì lì c'è uno specchio perché l'emotivo me lo racconta ma cosa vuol dire perché non lo sopporto e noi con la musica entriamo in questa specie di biblioteca che era psiche e attraverso una strategia molto particolare andiamo a fare andiamo a prendere un libro con scritto padre lo apriamo e dentro c'è un contenuto simbolico da quella frase capiamo che tu non sei arrivato con tuo padre che si chiama luigi tu hai una specie di conflitto con quel frammento di cui tuo padre ne ha specchio che fa parte dei tre maschili padre compagno figlio e poiché padre il maschile originario in psiconologia tu hai un conflitto con la struttura di gestione dell'infinito da cui arrivi quindi poiché io vedo sempre la metà di me stesso davanti a me e poiché io sono costituito da due metà che si possono definire maschile femminile in chiave simbolica ma sarebbe il mio potere di realizzare le cose il mio volere oppure può essere definito la testa la pancia oppure alcuni lo identificano l'emisfero sinistro e destro ecco poiché io sono un 2 quando incontro l'altro faccio quel patto per cui gli delego di farmi vedere l'altra parte di me questo io sono maschile femminile e non sono ancora integro tutte le volte che io incontro qualcuno attraverso quel qualcuno io vedo o il mio femminile o il mio maschile poi quando incontro giovanni vedo il mio maschile ogni contro francesca il mio femminile ma può anche essere uomo donna non è che per forza un uomo un maschile ma donna o femminile faccio un esempio quando incontro una persona che vedo in dispersione ad esempio una persona che non viene agli appuntamenti in orario che non è precisa delle cose io li vedo un atteggiamento femminio diremmo noi attenzione non parlo di uomini e donne femminile è un simbolo cioè la dimensione femminile è l'irrazionale che in quel caso immatura fa sì che quella persona non arrivi all'appuntamento in orario quando quella persona non arriva in orario è femminea a quel punto la mia relazione è maschile e cioè come sto davanti al suo essere femminio quel come se mi racconta del mio come e cioè se davanti alla sua dispersione mi arrabbio lo picchio lo insulto oppure lo accolgo oppure gli chiedo che ti è successo oppure prendo che me ne vado tutte quelle reazioni che ho con giovanni che aveva ritardo sono per analogia le stesse che la mia testa maschile ha con la mia pancia quindi se la mia pancia fa qualcosa di irrazionale io mi comporterò con quell'irrazionale mio come mi comporto con giovanni questa è l'arte analogica che però è complicata bisogna vedere bene le dinamiche viceversa se incontro una persona molto rigida che mi mette davanti tutta una serie di schemi di chiusure di limiti io li divento femmineo e magari davanti a quel giovanni chiuso stretto che mi che mi soffoca io ho o mi ribello in modo violento oppure mi lascio mi faccio obbediente o mi sento soffocare la stessa cosa quindi avverrà in me questa relazione diventa questa relazione quindi vuol dire il momento in cui la mia mente troppo rigida la mia pancia o si ribella o si rinchiude si nasconde si soffoca ma questo può dire tantissime cose vuol dire che appunto quando io dico da domani smetto di mangiare un alimento se la mia pancia non è d'accordo che gli piace perché lei è il piacere come reagirà la pancia a quell'atto schematico autoritario della mente e lo vedo nella relazione con l'altro se con giovanni io mi ribello la pancia si ribellerà in quel caso più mi metto a dieta e più la pancia avrà voglia di quell'alimento ad esempio per cui più più stringo e più la pancia si ribella oppure io decido di smettere di mangiare quell'alimento senza interrogare il mio volere la pancia e la pancia si sente soffocare però quel soffocamento poi lo ritroverò come sintomo perché quella pancia soffocata non non resta la muta non si non si vendicherà diciamo così sulla gola con la gola ma si vendica in un altro modo magari mi crea tensione quindi mentre io smetto di mangiare un alimento vado in stress e quindi magari poi per risolvere quello stress magari inizio a fumare per non mangiare un alimento quindi tutta una serie di reazioni a catena simboliche che mi fa capire che ho una relazione infinito pancia finito mente questa relazione infinito finito è la stessa che io avrò con l'altro quindi io faccio sempre esperienza o del mio infinito o del mio finito e se per infinito intendiamo tutta la dimensione divina quell'oceano da cui arrivo e per finito intendiamo le strutture di accoglienza di quell'infinito ecco che nella relazione con l'altro ho modo di vedere a che punto sono nella gestione dell'infinito e quanto quell'infinito invece che manifestarsi nella sua forma armonica creativa di flusso si manifesti invece nella sua dimensione immatura distruttiva e o di follia o di tsunami emotivo o di una pulsione esondante ingestibile che sono i precedenti del femminile funzionale emozionale mentale l'arte analogica è un'arte perché bisogna capire nella relazione con quell'altro individuo cosa quell'altro mi sta raccontando si mi racconta un femminio pulsionale che io sto schiacciando o lascio troppo libero si racconta un infinito emotivo che io sto soffocando o lascio troppo esondare o si racconta un infinito un femminio mentale che io sto troppo ascoltando oppure lo sto reprimendo il che vuol dire tutta la dimensione funzionale fame gli appetiti che vuol dire tutta la dimensione emotiva affettiva e tutta dimensione intuitiva creativa fino a quando infinito e finito litigano vale la descrizione freudiana di pulsioni naturali esso che lottano contro gli schemi soffocanti sociali e in mezzo c'è questo io che cerca di fare da da pacere però non è lo stato dell'individuo integro quello freud racconta la dinamica di immaturità cioè quando i due sono ancora uno contro l'altro non è che l'uomo in quanto tale è quello è come dire che l'essere umano sia alto 50 centimetri perché guarda un bambino quello un bambino quindi la forma umana diamo per scontato ma non è scontato diamo per architipica la forma umana come una forma adulta quindi quando freud legge la psiche non legge la psiche matura legge il dato di maturità per cui vede il femminino che diventa la pulsione irrazionale quasi animalesca e vede il dato sociale le regole del superiore e quindi si perde tutta la dimensione del sacro e quindi l'oceano e dà alle forme sociali superiore soltanto l'idea di un controllore mentre in realtà portate a motorazione sono l'infinito nel finito per cui anche la psicologia deve evolvere nel raccontare la psico umana perché anche la psicologia se matura vedrà a livello in cui si trova una psicologia matura vede l'essere umano come dato di maturità e quindi l'altro diventa soltanto o il dato pulsionale caotico oppure la regola mentre le sapienze come quella evangelica trascende la psicologia pseudo moderna va subito al punto ti fa subito vedere chi è l'essere umano adulto e lo chiama gesù e ti dice questa è la psiche che funziona bene tutto il resto è preparazione se non sei così non sei ancora a te stesso non sei ancora arrivato a maturazione e quindi non potrai vedere nell'altro il fratello non potrei alzare la pietra dire lì ci sono io quindi essendo la psicoanalogia un'arte evangelica ci è chiaro chi è l'essere umano maturo che mi sta abitando quindi tutte le strategie convergono a raggiungere quello scopo lì e a fare dell'altro non più un nemico ma un'altra forma di me stesso